Punto lettura Giovanni Guarino Inaugurato questa mattina a Palazzo Baronale, il punto lettura dedicato a Giovanni Guarino, il giovane di Torre del Greco accoltellato a morte lo scorso anno all'esterno di un luna parchi in località Leopardi. Un presidio di legalità è uno strumento di contrasto al disagio sociale. Siamo contentissimi di questo evento perché il far nascere di noi Giovanni e far sentire il nome di nostro figlio che è stato strappato senza un motivo da Torre del Greco. Ringraziamo il comune di Torre del Greco che fa sì che il nome di Giovanni non venga mai dimenticato. Ci sono altre iniziative, altre manifestazioni che saranno fatte? Sì, a Natale vogliamo fare un'altra iniziativa per le scuole portando il Babbo Natale ai bambini anche a Piazza Santa Croce. Adesso ho visto che anche a Piazza Santa Croce stanno mettendo l'urivo per Giovanni, per il ricordo di mio figlio Giovanni. Allo Stato come sta la situazione? Qual è la vicenda, l'esito della vicenda e quali tempi si prospettano? No, la vicenda si è fermata che hanno avuto la prima volta 14 anni e 8 mesi, poi sono andati in appello, la legge gli ha tolto due anni e otto mesi e ora aspettiamo la Cassazione, cioè noi non siamo tutelati dalla legge. Spero che per il gennaio la Melone dice che farà una legge nuova contro queste cose, contro i cortelli, che uno che esce un bambino da scuola e non si ritrova come ci siamo ritrovati noi, una vita strappata. Succedendo questo si distrugge tutta la famiglia e non si riesce più ad andare avanti. Oggi è un giorno di festa veramente per la nostra città, abitiamo il Palazzo Baronale con questo meraviglioso punto lettura, 06 anni per i bambini, donatoci dalla Fondazione Polis che ringraziamo. È un punto lettura che intitoliamo Giovanni Guarino, il nostro ragazzo brutalmente ucciso a 20 anni, affinché questo punto lettura diventi un presidio di legalità e un contrasto al disagio sociale. Come funzionerà da oggi il punto lettura? Quali sono i giorni dove è possibile venire al Palazzo Baronale e quali sono gli orari per usufruire della stanza? Il punto lettura sarà aperto tutti i venerdì mattina e tutti i sabato pomeriggio. C'è un'educatrice esperta e formata da Fondazione Polis che si occupa dell'animazione del punto lettura, quindi per i bambini 0,6 anni, ma in realtà noi abbiamo deciso di rendere il punto lettura un punto vivo, per cui sono già cominciati dei laboratori in collaborazione con Radio Siani, che ringraziamo per la disponibilità, per i ragazzi delle scuole medie e superiori che hanno già potuto fare all'interno del punto lettura, stanno facendo, continueranno fino al 15 dicembre, dei laboratori proprio sul tema della legalità, grazie all'utilizzo di libri, di testi che ci aiutano a riflettere su questo tema. Altre attività per portare il nome di Giovanni Guarino all'interno del contesto e del mondo scuola? Abbiamo già bandito il primo concorso Giovanni Guarino, concorso sul, quest'anno l'abbiamo chiamato in questa edizione Legalità è bene comune, è il titolo di quest'annualità. Abbiamo chiesto ai ragazzi delle scuole medie e superiori di produrre un cortometraggio sul tema della legalità e del bene comune e poi il 19 dicembre faremo una giornata di premiazione per tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso. È un modo per raccontare di Giovanni ai giovani come lui, ma è un modo anche per aiutare i ragazzi a riflettere su tematiche così importanti, quali appunto quelli della legalità. Punto di lettura Giovanni Guarino, nel cuore della sede amministrativa della città di Torre del Greco, una duplice occasione, una opportunità per divulgare cultura e per far conoscere la storia di un ragazzo, Giovanni Guarino. Riprendo le parole di un grande papà, anche lui familiare di vittime innocenti, il papà di Annalisa Durante quando dice che la cultura salva l'anima, lo dice un uomo che non sapeva nulla di cultura per motivi suoi, così per la sua storia, eppure ha compreso questo dato così importante in un luogo come Forcella. A maggior ragione dentro questo palazzo che è un po' un tempio della democrazia, perché comunque ha a che fare con le istituzioni, ha a che fare con il luogo delle decisioni. Creare un punto di lettura significa avere l'onestà intellettuale, di fidarsi dei bambini per poter fare una città a loro misura e farlo a nome e nel ricordo di una vittima innocente come Giovanni, credo che sia il modo più bello per lasciarlo in vita e non abbandonarlo alla sua morte. Come si parla di vittime innocenti in un territorio difficile come quello napoletano e anche nelle realtà locali della provincia di Napoli? Ricordandole, ricordandole, il miglior modo per parlare è la memoria, perché credo che ancora oggi la memoria delle vittime innocenti provoca in tutti noi una reazione che se è brutta, cattiva, se è bastarda, va verso l'indifferenza, ma se è autentica, va verso una dimensione autentica del dire che cosa posso fare io, da che parte devo stare. Vogliamo aprire il palazzo di città ai torresi, ha sottolineato il sindaco Luigi Mennella, per far sentire loro la vicinanza delle istituzioni. Noi vogliamo aprire il palazzo galonale ridando il palazzo alla città, questo è il primo punto, l'incontro dove possono leggere e creare tanti magari attività, poi ci saranno altri, perché ridare la città ai cittadini è quello che vogliamo fare, ridare la vicinanza delle istituzioni ai cittadini, tutti insieme dobbiamo lottare per i nostri figli, per stare vicino alle persone, per fare in modo che queste cose non accadano più.